Allora, passeggiavo per Roma e qui ci stavo davanti, non ora, Villa Torlonia. Stavo facendo servizio su Villa Torlonia. Quindi andiamo a Villa Torlonia, io la schiena nera e la ricrescita dei capelli, e vediamo un po' di che si tratta di questa Villa Torlonia. Secondo me, i presidenti americani ci sono ispirati. Torlonia, una villa in stile neoclassico, costruita per i conti Torlonia che perdonarono al fascismo e abbinito Mussolini. Infatti è per quello che mi ha conosciuto, che era la Villa di Mussolini. Attorno a Villa Torlonia c'è un bel parco. E' oggi molto a caso. Andiamo a vedere un po' di cose interessanti, se ci riusciamo, perché non ho manco studiato per questo video, perché questo è veramente a caso. Stavo passeggiando, me la trovo di fronte. Questo è il retro di Villa Torlonia che non mi fa far mai vedere qui. E' meglio il davanti. Una delle costruzioni più interessanti di Villa Torlonia secondo me è questa. la casina delle civette, una villetta libera, veramente, veramente carina. Mi sono fatte alle favole, le chiedesco proprio. Sembra veramente fatta alle favole. Però che siccome mi sono sfigato, è lunedì ed è chiuso. Vabbè è stato martedì a domenica, oggi è lunedì, l'unico giorno chiuso. Mi sono sfigato, mi sono affondito, va bene. YouTube non arriva mai in ritardo. Arriva esattamente quando sceglie di arrivare. Scusate, ma con quella la citazione al Signore degli Anelli era pubblica. Pure il campo da gioco. Bello però. l'antichiatra. Bello. Bello, bello, bello. Però ufficialmente, a poter scegliere dove vivere a Roma, se sei un militatore, avessi il tuo primo Villa Torlonia. c'è una montagna che io sto discendendo e sto discendendo perché? Perché in cima non c'è un cazzo. Non c'è un cazzo, vado a salirlo. E' un buon leg day. Si, mi fa pure il fiato se stava di corsa. E' fino a degli svet che mi presento. Per rimanere coerenti con tutto il video, a cazzo iniziata, a cazzo finish, la finita. Alzi mille, arrivederci. No, no, non mi saluto perché, perché vi devo dire perché non sto facendo video. Perché sono impegnato e mi occupazzo di fare video. La carina sempre, mi raccomando. Poi pure l'esercizio del covid. Mi volevo visitare la casa interna, quella la, il villino nobile. E' solo che mi sognava a prenotare finito. Se l'ho venuto a casa, non ho prenotato. Il bunker è chiuso, come vedete il bunker nel bunker è chiuso. Quindi, così inizia, così inizia, arrivederci. Volete pure i titoli di coda? Eh vabbè, questi suoi titoli e questa coda. Ciao! Ciao! Ciao!